ciao a tutti e a tutte questo nuovo video per far vedere come ho realizzato questo tubino è un tubino fatto con una soffa elasticizzata e niente è un tubino molto semplice basic io l'ho adornato con questa strisciolina di pizzo sempre elasticizzata e queste roselline fatte con il nastro per queste roselline vi rimando un video della bravissima fantasvale dove fa vedere come si realizzano e niente io farò vedere nel video come come ho fatto sicuramente le carte mi bacchetteranno perché ho usato un metodo un po particolare il carta non ho fatto un cartamodello l'ho ricavato da un altro abito e qui ho seguito i consigli della bravissima alessandra che ha fatto anche un programma su real time che era di fashion e quindi darò delle indicazioni per fare poi questo questo per arrivare a questo risultato e lo farò ridotto a un quinto come sempre così si vede bene tutto nella telecamera e niente un'altra cosa volevo farvi sapere che io e 68 lori loredana abbiamo creato un gruppo su facebook che si chiama mani creative e cucito e lì praticamente possiamo condividere tutto ciò che facciamo un riguardo ecco al taglio al cucito al patchwork a borse fatte a mano qualsiasi cosa e molto aperto molto libero e si possono chiedere consigli sia sulla realizzazione delle cose e che soprattutto anche sulla reperibilità dei materiali quindi consigli sui negozi sui siti internet e quant'altro niente mi sembra aver detto tutto e ho provato a fare i boccoli con la piastra e niente vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao allora per ricavare il modello ho seguito un video che ho visto una trasmissione televisiva che si chiamava rifashion dove mettevano sopra la stoffa direttamente una maglietta e prendendo i contorni del giro manica delle spalle e del fianco si ricava la sagoma del vestito non ci sono riprese perché è un tessuto elasticizzato quindi adesso a cucire le spalle e i fianchi e poi lo andrò a rifinire allora ho cucito le spalle lungo tutto il fianco poi dato che non ho la taglia a cuci ho rifilato il più possibile il bordo e ci ho fatto due passate di zig zag poi qui sotto e ho ripiegato l'orlo due volte facendo comunque andare il bordo all'interno e poi cucirò con un punto nascosto mentre invece per il giro manica e per lo scollo ho effettuato dei taglietti sul giro manica per far girare bene la stoffa visto che elastica è girata abbastanza bene anche qui ho fatto prima una doppia passata di zig zag e adesso anche qui lo andrò ad appuntare volevo mettere uno spiego però avevo paura che essendo anche un c'è sia elastico che vedete effetto così crepe ho paura che si arricciasse quindi ho visto che comunque la stoffa girava bene e ho deciso di di piegarlo così allora ecco come cade sul manichino adesso vedrò se non mi farà difetto neanche indossandolo e poi deciderò come dargli un po di carattere visto che adesso è così ancora basic allora per ricavare il carta modello io faccio in questo modo questa è facciamo conto che la stoffa usato un pezzo di carta un foglio di carta e questo è una maglietta io ho usato per quanto mi riguarda una t shirt della te zenis di quelle aderenti e la girata al contrario quindi fate conto che questa è una maglietta di già dal contrario con le cuciture a vista e la piegate a metà poi piegate la soffa in due e poi ancora in due e dal lato qui della piegatura appoggiate la maglietta sulla stoffa e la fissate con degli spilli e magari si vede meglio ecco poi una volta appuntata bene tracciate con un gessetto la linea dello scollo logicamente dalla parte più stondata la spalla e piegate la maglietta e cercate di seguire il giro manica io mi tengo un po più larga perché logicamente la maglietta va a pelle molto stretta quindi alla fine si fa sempre meglio a allargare a restringere che allargare quindi e traccio una linea e poi da qui misuro dal punto vita quanto voglio lungo il tubino facciamo conto diciamo una misura ipotetica e traccio la linea a questo punto comunque siccome non è che siamo dei dei tronchetti in cerco di dare un po di garbo e per fare diciamo una linea che arriva fino al punto vita leggermente stondata e poi da qui unisco ci deve essere proprio un angolo qui una lieve curvatura sia qui in giro manica che dalla da sotto l'ascella fino al punto vita e questo praticamente è il modello ora tagliamo facciamo conto io per esempio ho lasciato anche abbastanza margine perché poi ho fatto la prova prima il manichino e poi su me stessa effettivamente l'avevo fatto troppo stretto quindi che cosa ho fatto ho allargato la cucitura ho scucito dove era troppo stretto e l'ho fatto fino al punto dove poi mi mi andava bene quindi in questa maniera si hanno contemporaneamente il davanti e il dietro e ora poi tutte le varie modifiche che volete fare le potete fare tipo il collo dallo scollo davanti più profondo oppure un una monospalla insomma poi quello starà a voi però per quanto riguarda il tubino basic io ho adottato questa questa tecnica che vi ho detto l'ho vista comunque in un programma tv e diciamo una tecnica che si usa appunto per non quando non magari non si ha tanto tempo comunque non si ha tanta voglia di fare tutto il tracciato come si deve fare e logicamente questo sistema qui va bene soltanto per i tessuti elasticizzati perché ovviamente io comunque sia poi ho cucito la spalla il fianco e non ci sono cuciture né nel davanti e nel dietro quindi viene tutto liscio senza le cuciture e questo si può fare soltanto con un tessuto elasticizzato perché altrimenti sapete che comunque noi abbiamo delle forme e quindi per quanto riguarda i tessuti normali ci si devono ci devono essere delle riprese che danno volume alla soffa in quanto appunto non siamo piatti e quindi insomma lo sapete meglio di me e questo per quanto riguarda come ho ricavato il modello poi logicamente voi quando uscite vi ho detto lasciate un po di margine ve lo provate se è troppo stretto lo allargate e se è troppo largo lo stringete fare delle prove fino a ottenere diciamo il risultato ottimale provando ve lo addosso allora una volta cucito che cosa ho fatto dopo aver fatto le varie prove ho applicato un nastrino questo è un pizzo elasticizzato l'ho appuntato appena sotto il seno e l'ho cucito direttamente sul manichino nel senso che l'ho appuntato prima e poi ho fatto con dei punti nascosti tutto intorno bisogna essere attenti a non prendere anche la soffa sotto del manichino però basta soltanto un po di attenzione insomma si fa tranquillamente poi sopra c'è questo gruppo di roselline che ho fatto seguendo un video poi vedo se lo metto nel box info sono dei nastrini di raso piegati in una certa maniera e poi appuntati di lato vicino la scollatura devo dire che comunque sia è un lavoro abbastanza semplice perché sono pochi cuciti pure e la semplicità data dal fatto che la stoffa è elasticizzata perché per fare un tubino con una soffa normale ci vogliono tanti vuole tanta precisione e e anche tanta esperienza per quanto riguarda il giro manica e lo scollo dato che è una stoffa lastica gira molto bene io non ho fatto altro che qui nel giro manica fare dei tagli di taglietti in questa maniera tutto intorno e girare la stoffa e appuntarla con cucirla a mano con un punto nascosto prima di fare ciò comunque ho fatto due giri di zig zag non uno ci ho passato due volte sia nello giro manica sia nello scollo e anche prima di effettuare le cuciture sui fianchi perché non avendo una macchina professionale una taglia e cuci ho pensato bene di non farlo sfilacciare e di passare due mani di zig zag in modo da far venire un lavoro il più pulito possibile che all'interno non si sfilacciasse dopo aver fatto tutte le prove visto che comunque sia non era più c'era più bisogno né di allargare né di stringere poi ho tagliato il più vicino possibile alla cucitura che poi avrei dovuto fare per unire pezzi e ho passato lo zig zag e niente questo è il risultato non so se riesco a farlo vedere per intero vediamo se riesco a inquadrarmi da sola con indossi il vestito e un'ultima cosa allora per quanto riguarda il ciondolo da abbinare ho deciso di fare questo bellissimo ciondolo che è duble fas della bravissima fada morgana e vi metterò il link anche del suo canale che è una terminatrice bravissima fa degli schemi fantastici come potete vedere e come colori comunque mi piace perché comunque è un viola che si abbina abbastanza al colore del vestito quindi sono soddisfatta perché questo l'avevo fatto in tempi non sospetti e poi ho comprato questa stoffa e diciamo è venuto un po da sé questo si chiama appunto ciondolo giano si può trovare lo schema su etsy e chiarissimo si esegue veramente bene si capisce alla perfezione e niente ve lo consiglio è un ciondolo bello anche perché comunque ha questa caratteristica di essere indossato un giorno in un modo e un giorno in un altro bene credo di aver detto tutto vi saluto e ci vediamo presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti